Ciao, io mi chiamo Sydney, parlo fluentemente inglese e russo, sono attrice di teatro, faccio cose, vedo gente che mi interessa, benvenuto sul mio canale, in particolare sulla mia rubrica russaliana, appunti russi di un'italiana in cui ti parlo della mia vita quotidiana in Russia. In questo video ti racconto, come ho promesso qualche video fa qui, come ho ottenuto la cittadinanza russa. Niente panico, io non ho dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana. Per chi è nuovo su questo canale io faccio un breve riepilogo, mi sono trasferita a Mosca inizialmente per un breve periodo di lavoro del 2012, dopo questo breve periodo di lavoro io ho deciso di rimanere e io vivevo in Russia con un visto di lavoro. Il visto di lavoro è una cosa molto difficile da ottenere, per ottenerlo bisogna trovare un'azienda che compri delle quote per poter invitare dei migranti per lavoro. Trovare queste aziende è molto difficile, soprattutto trovare aziende che siano interessate ad invitare con un visto di lavoro persone qualificate da altri paesi, perché ci sono molti lavori che i russi stessi sanno fare. Per me il modo più semplice di ottenere un visto era di ottenerlo come insegnante di lingue straniere, perché a Mosca ci sono molte, molte scuole di lingue straniere che lavorano con i madrelingua e quindi invitano i madrelingua. Gli forniscono un visto di lavoro e in questo modo tu puoi soggiornare anni interi sul territorio russo, perché il visto di lavoro ha anche questa specificità che per essere rinnovato non c'è bisogno che tu lasci il territorio russo, quindi può essere semplicemente rinnovato per un altro anno, per un altro anno, per un altro anno. Tu puoi continuare a stare qui, cioè torni a casa per le vacanze, ma non devi richiedere un altro visto, ti vengono pagati i contributi, insomma sei in regola con le tasse. La tua libertà a livello professionale è molto limitata, nonostante tu guadagni relativamente bene rispetto ai tuoi coetanei che vivono a Mosca e che non sono expat e quindi io mi rendevo conto che io volevo passare ad uno status diverso. All'epoca era possibile ottenere prima un RBP, cioè un permesso di soggiorno temporaneo, era possibile a livello teorico, a livello pratico non era possibile ottenerlo perché anche lì bisognava fare domanda per ottenere una quota e queste quote venivano date per lo più a cittadini della SNG, società degli stati indipendenti, quindi cittadini dell'ex Unione Sovietica e ad altre persone che spesso in maniera diciamo semi illegale o illegale compravano queste quote. Io personalmente non sapevo come ottenere questa RBP, ci ho anche provato, la quota non me l'hanno data, ci ho provato due volte. L'unico modo per ottenere un permesso di soggiorno era quello di sposarmi, parlando con diversi amici, addirittura una volta io trovai un marito fittizio. Non c'è stato bisogno di fare questo matrimonio fittizio, non c'è stato bisogno di fare questo matrimonio fittizio e mi sono molto contenta. Ragazzi mi sa? Cioè mi sa che io devo trovare il modo di fare questo video in casa mia perché sta ritornando l'inverno proprio in questo momento, volete vedere? Fa pure un cazzo di freddo, bello e buono. Cioè, che cos'è? Che cos'è? Eccomi di nuovo con voi da casa. Questa volta mi sono ricordata che bisogna infilare il cavetto del microfono nel telefono. Perché prima me ne ero dimenticata. Nel 2020 comincia la pandemia. Finita la pandemia, durante la quale io continuavo a cercare modi di rimanere perché mi ero detta se non c'è un modo di rimanere in Russia senza un visto di lavoro che ti obbliga a lavorare in un determinato posto, cioè è inutile che poi per di più con la pandemia stai chiusa in Russia, a Mosca, a lavorare da casa. Puoi lavorare da casa da qualsiasi altro posto. A luglio ci chiama, ci perché chiama la scuola, uno dei consulenti della scuola e dice guardate che c'è stata una modifica in base alle nuove leggi, insomma da luglio del 2020 è possibile anche per chi ha un visto come insegnante l'ottenimento semplificato del permesso di soggiorno, per il momento io sapevo solo quello, il permesso di soggiorno, in realtà il permesso di soggiorno è della cittadinanza. Perché esiste un pericin prefissi, cioè una lista di professioni che hanno accesso al permesso di soggiorno senza dover richiedere le quote per avere l'RVP, quindi possono ottenere il permesso di soggiorno senza prima ottenere il permesso di soggiorno temporaneo RVP, no? Da luglio del 2020, come ci fece sapere il consulente della scuola, nel pericin fu inserita la professione del prepadavatili, insegnante e sul mio visto, che io avevo da anni, c'era proprio scritto che io mi trovavo in Russia in qualità di prepadavatili, insegnante. La legge che io mi dovette studiare prevedeva che per ottenere il permesso di soggiorno in via semplificata bisognava dimostrare di aver lavorato regolarmente in Russia per almeno un anno. Mi dissi va bene, rimango un altro anno il tempo di ottenere il permesso di soggiorno e poi si vede, nel frattempo scoprì che avendo ricevuto il permesso di soggiorno, io avevo diritto senza aspettare quei 5 anni che normalmente prima si aspettavano dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno per ottenere la cittadinanza, io potevo direttamente fare richiesta di cittadinanza come io ho saputo tutte queste cose, perché a un certo punto io mi sono andata a verificare tutte queste leggi, tutti questi articoli su un sito che si chiama consultant.ru, dove si possono trovare tutte le leggi, gli articoli, i vari codici, in realtà ci sono dei legali che fanno delle consulenze e che possono aiutare a raccogliere tutta la documentazione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno e anche per ottenere la cittadinanza, il fatto è che soltanto per ottenere il permesso di soggiorno, io mi sono informata e si trattava di pagare una cifra che all'epoca 70 mila rubli, più di 1000 Euro, alcuni chiedevano anche di più e per giunta comunque si trattava di raccogliere una documentazione, come raccoglierla? nel senso che la raccolgo io e poi il legale la mette insieme e in base a quella documentazione compila un modulo e cerca di farmi avere questo permesso di soggiorno senza però garantirmi che io lo ottengo. Decisi all'epoca che per me questi erano troppi soldi, perché comunque per andare avanti e indietro per ottenere questo permesso di soggiorno, fare tutte queste carte, comunque io intorno ai 500 Euro li ho spesi e quindi avrei dovuto spenderne 1000 in più, mi sono detta ma io in russo lo so, cioè alla fine che cosa serve? Ci voleva per ottenere il permesso di soggiorno, un esame che io feci presso l'istituto Pushkin di lingua russa a Mosca, di lingua russa livello B1 e una cosa tipo, nuove storie da Canada, le basi della storia e dei diritto in Russia, questo esame è valido 5 anni. Dei certificati medici che hanno validità 3 mesi, tra cui una perizia psichiatrica e un test dell'HIV, ci voleva il casellario giudiziale che in Europa è valido 6 mesi, ma in Russia è valido solo 3 mesi e ci voleva appostillato, la traduzione del passaporto, tutte le pagine, la dichiarazione delle tasse pagate nell'ultimo anno e un documento che si chiama Dva and the Fel, dal quale si può ricavare qual è il salario medio e delle foto, io non mi ricordo un pagamento di che cosa, comunque è stata un'avventura, io ero registrata a Mosca perché quando tu hai un visto di lavoro ti trovi sul territorio comunque con una registrazione, una registrazione che viene fatta su un foglietto di carta, che tu porti sempre infilata così nel passaporto, con la quale tu giri per la città e che deve essere rinnovata ogni volta che lasci il territorio russo e rientri. Ero registrata, una volta ci si poteva registrare presso il luogo dove lavori, in quel momento non era più possibile, quindi io ero registrata presso la mia dattrice di lavoro, cioè a casa sua, che in realtà non si potrebbe fare, però molti padroni di casa, cioè la maggior parte dei padroni di casa, si rifiutano di registrarti nel luogo in cui vivi realmente perché hanno paura di un controllo perché ti vogliono dare la casa in affitto senza pagare le tasse e lo fa un mare di gente quindi. E quindi io siccome ero registrata a Mosca, io ho fatto richiesta di permesso di soggiorno a Sakharova. Sakharova è un centro che si trova, se avete visto il mio video fatto un paio d'anni fa su come si dice in russo in culo al mondo, insomma se non l'avete visto guardatevelo, perché questo posto si trova proprio Vybigny, Ushortan Raga, in culo al mondo, cioè si trova tuttora ed è un centro in cui hanno dirottato tutte le pratiche riguardanti l'immigrazione. Ci si va con un pullman della speranza che si prende dopo essere arrivata alla fermata dell'antropolitana più remota del sud di Mosca e ci vai con questo autobus incastrata come una sardina tra i Tajiki, i Guzbeki, i Chirghisi e non so più quali altre nazionalità e io sono dovuta andare diverse volte in questo posto, a volte ci sono andata anche con il taxi, il taxi per andare là, andato e ritorno mi costava pure i 5 mila rubri, cioè diciamo che io spendevo all'epoca tipo 100 euro in una giornata così, solo per andare avanti e indietro. Quando questo centro sacrovo è stato aperto, inizialmente bisognava andare lì solo per prendere appuntamento per un altro giorno, ora immaginatevi, ci volevano tipo da casa mia all'epoca ci volevano più di tre ore per arrivare a Sacrovo, immaginatevi di fare tre ore e passa di viaggio solo per prendere appuntamento per poi ritornare un'altra volta, cioè si perde una giornata di lavoro solo per questo, però fortunatamente quando io ho fatto richiesta di permesso di soggiorno, avevano già sviluppato un sistema online per cui io ho potuto creare un'area personale sul sito del Mnagofunzionale Migration Center, cioè centro per l'immigrazione multifunzionale e quindi io da quest'area personale ho potuto gestire la mia richiesta di permesso di soggiorno, quindi ho caricato tutti gli scan dei documenti ottenuti, dopodiché all'epoca si poteva ancora ottenere gratuitamente che qualcuno li correggesse, però non era una vera e propria consulenza, cioè ti facevano sapere questo non va bene, questo non va bene, poi te la dovevi sbrigare tu, di capire come dovevi correggere tutte queste inesattezze, spesso si tratta di inesattezze assurde, tipo non so, cioè tu devi controllare che il tuo nome sia trascritto correttamente in tutti i punti, ma non so, per esempio una delle inesattezze che si trovavano nei miei documenti era che ovviamente sui documenti italiani c'è scritta la città di nascita più tra parentesi la sigla della provincia, in alcuni documenti era stata tradotta come sigla, in altri documenti era stata tradotta citando in russo il nome della provincia per intero, per qualche motivo chi vedeva questi documenti considerava il nome della mia città con la sigla della provincia tra parentesi, il nome della mia città senza la sigla della provincia tra parentesi come due città diverse e quindi per questo motivo io diverse volte sono dovuta ritornare dai traduttori che traducevano i documenti perché io non potevo tradurli da sola perché non ho la qualifica necessaria in Russia per tradurre i documenti per poi farli giurare e finalmente sono riuscita a ottenere il permesso di soggiorno, l'attesa era di sei mesi, ma è una sorpresa. Tu vieni chiamata il giorno che finalmente riesci a fare la domanda di permesso di soggiorno ti fanno lasciare le impronte digitali, ti rifotografano eccetera eccetera, fermi una carta, il giorno che mi consegnano il permesso di soggiorno questo ufficiale me lo consegna e insieme mi consegna una carta e mi fa firmare una carta dove c'è scritto una cosa della quale nessuno mi aveva avvisato prima e che io non sapevo nonostante aver studiato tutte le leggi del caso in cui c'era scritto che avevo l'obbligo di registrarmi entro cinque giorni lavorativi dopo aver ricevuto il permesso di soggiorno presso un domicilio, altrimenti c'era il rischio che io fossi deportata e la deportazione significa che tu vieni bannato dal territorio russo per cinque anni, quindi praticamente sarebbero stati vanificati tutti i miei sforzi. io ero terrorizzata perché io adesso dove lo trovo in cinque giorni un domicilio dove mi registrano, adesso si trattava di avere una registrazione che in russo viene erroneamente chiamata prapisca usando un termine che si usava in Unione Sovietica e che adesso non si usa più perché adesso si parla di PASTAIAN REGISTRAZE, PAMIESTURREGISTWA, cioè registrazione permanente presso il luogo di residenza, molti credono che se tu hai la prapisca poi dopo potresti fare causa, ti toccherebbe una parte dell'immobile, non è così. Comunque io in quei cinque giorni sono diventata praticamente pazza, mi sono messa alla ricerca di qualcuno che mi registrasse, ho addirittura trovato persone che registrano per soldi, cosa che è comunque illegale, però uno come si salva il di dietro, non lo so, e si trattava di pagare anche lì fra i cinquecento e mille Euro l'anno per avere la residenza in un posto in cui tu poi non vai mai. Però una delle persone che poteva per soldi registrarmi mi chiedeva di consegnare il mio passaporto e i miei documenti e poi me li avrebbe riportati dopo un tot di giorni, io non potevo essere presente al momento della registrazione e non potevo conoscere di persona le persone che mi avrebbero registrato come residente a casa loro e a me sta cosa non mi andava tanto bene perché separarmi dal mio passaporto e inoltre da un documento che mi è appena stato dato senza sapere che cosa ci fanno con questo documento, cioè rimanere per alcuni giorni io senza documenti di identità in mano, cioè una cosa molto rischiosa, io non so come gli altri abbiano fatto a fare questa cosa, ma io non ho voluto avere di questi problemi. Però nel frattempo si è fatta viva un'altra persona che è il mio angelo, io tuttora la ringrazio con tutto il cuore e mi ha fatto registrare come residente presso una proprietà di sua madre che si trovava però non a Mosca, ma in una città fuori Mosca, quindi una volta ottenuto il permesso di soggiorno io ero ufficialmente residente a Stupino che si trovava a tre ore comunque, e io mi sono ritrovata avendo il permesso di soggiorno a fare richieste di cittadinanza non più a Mosca, ma a Stupino perché ero lì residente. Per ottenere la cittadinanza la procedura era un po' più semplice, però siccome io non dovevo più andare a Sacrovo, dove c'è la possibilità di fare domanda tramite un'area personale online, dove comunque anche se ci sono le folle, anche se ci deve arrivare col pullman della speranza, comunque è tutto organizzato in maniera molto efficiente, ci sono mare di uffici, ci sono mare di sportelli, ogni sportello è dedicato ad una sola pratica in particolare, invece io mi sono ritrovata a dover fare tutto questo a Stupino in un ufficio di fortuna con la moquette staccata dal pavimento, con il cemento nudo sotto la scrivania dell'ufficiale che riceveva i miei documenti, con la carta da parati che si staccava, dove si faceva ancora tutto a mano, dove alcune cose sui documenti si scrivevano a matita per poi ricalcarle a penna, c'era tutta una serie di cose arrangiate, ogni volta che bisognava correggere una virgola io dovevo andare e tornare da questo Stupino, perché magari non rispondevano nemmeno al telefono, perché questo è un piccolo paese. Per ottenere la cittadinanza ci volevano di nuovo la traduzione del passaporto e il permesso di soggiorno con la registrazione, questa è una cosa molto importante, perché per me era così necessario ottenere una registrazione come residente, non quella sul foglietto di carta volante, ma proprio il timbro sul permesso di soggiorno che era così difficile da ottenere, perché non è possibile fare domanda di cittadinanza anche se hai il permesso di soggiorno, se non hai fissa dimora. I documenti che dimostrassero, i documenti del pensione fond, cioè del fondo delle pensioni che dimostrassero che i miei contributi erano stati pagati, il VFL, dal quale si poteva dedurre il mio salario medio, delle foto, il libretto del lavoro e un certificato di lingua sempre ottenuto facendo l'esame presso l'istituto Pushkin, che tra parentesi sta avendo dei problemi ultimamente proprio perché li hanno sgamati, che anche loro vendevano certificati a persone che in realtà non avevano superato l'esame. Certificato che poi mi ha lasciato molto perplessa questa cosa, perché era un certificato che non scade, quindi permanente, di livello A2. Il livello A2 è inferiore al livello B1, quindi praticamente io ho dovuto dimostrare di avere un livello superiore di lingua cittadinanza quando ho ottenuto il permesso di soggiorno, ma un livello inferiore quando ho ottenuto la cittadinanza. Tra l'altro il mio livello di russo è molto più alto di un B1, cioè io ho almeno un livello C2 di lingua russa, che è il più alto, ma quello si richiedeva per ottenere la cittadinanza, quindi quello ho fatto. Ho raccolti tutti i documenti, tra l'altro, prima di fare la richiesta di cittadinanza, bisognava compilare il modulo. Questa volta, siccome non volevo fare errori perché ero stanchissima di andare avanti e indietro da stupino, mi sono fatta aiutare da un legale, però mi sono fatta aiutare da un legale soltanto per compilare i documenti. Ho pagato 5.000 rubli, che all'epoca erano forse poco meno di 100 Euro. L'attesa era di 4 mesi e dopo 4 mesi, cioè a febbraio, io ricevessi una chiamata con la quale mi si riferiva che mi era stata conferita la cittadinanza russa. Questa chiamata arrivò pochissimi giorni dopo l'inizio della guerra. Preparati perché il tot di marzo dovrai venire a fare giuramento. I miei amici più cari mi dicevano, ma adesso sei sicura che la vuoi la cittadinanza? Non è il caso di fare un passo indietro. E alcuni italiani mi dicevano anche, tieni presente che una volta ottenuta la cittadinanza, sul territorio russo tu sarai cittadina russa e verrai trattata come tale, non verrai trattata più come straniera. Quindi se tu dovessi avere problemi con la legge, dovresti avere sempre prima da sbrigartela con la Russia. E nel caso che in una situazione di guerra si decidesse di chiudere i confini, tu potresti avere difficoltà ad essere evacuata come italiana in quanto sul territorio russo saresti russa e quindi saresti costretta a rimanere in Russia. Sinceramente sì, avevo questa perplessità, ma se non avessi ottenuto la cittadinanza in quel momento avrebbe veramente avuto senso lasciare il paese. Alla fine mi sono detta sei andata per tanto tempo incontro a questa cosa, hai lavorato tanto, hai studiato tanto, ti sei fatta un mazzo così per ottenere questa cosa che non ha a che fare con le tue convinzioni politiche, sono andata a fare il giuramento. Il giuramento per ottenere la cittadinanza, per accettare la cittadinanza della federazione russa, recita io nome e cognome, di mia volontà e coscientemente ricevendo la cittadinanza russa, giuro solennemente di osservare la costituzione e le leggi della federazione russa per il bene dello Stato e della società, di difendere la libertà e l'indipendenza della federazione russa, di essere fedele alla Russia e di onorare la sua cultura, la sua storia e le sue tradizioni. Comunque anche dopo aver firmato il giuramento e aver cantato l'inno nazionale Il tipo l'ufficiale che presiedeva i giuramenti, che aveva due occhi così perché tutti quanti che leggevano dal libretto e io sapevo l'inno a memoria e manco lui se lo ricordava a memoria. Cioè sarà tornato quella sera, l'ho detto alla moglie, ma lo sai che oggi ho visto un'italiana che prendeva la cittadinanza stupido, che sapeva l'inno russo a memoria. Comunque quel giorno ho scoperto che avendo fatto giuramento dovevo adesso ottenere il passport che in russo non è il passaporto quello per lasciare il paese ma è la ID, la carta di identità e per ottenerlo mi serviva il certificato di nascita. Questa cosa mi lasciò allucinata perché dico ma sapete anche quanti peli ho in quel posto lì e com'è possibile che dopo che io da un anno e mezzo vado in giro a recuperare le scartocchie per portarvele, dopo che già me l'avete data la cittadinanza mi chiedete il certificato di nascita. Vabbè, la guerra era cominciata, i corrieri non passavano, io mi faccio mandare uno scan di questo certificato di nascita, faccio una stampa di fortuna e gli dico guardate prendetevelo, pure perché alla fine non è che questi mi potevano rifiutare di darmi il documento di identità dopo che mi avevano già dato la cittadinanza, sarebbe stato un controsenso in che modo io dovevo vivere in questo paese. Per ottenere questo passaport, io mi sono dovuta recare non più a Stupino, ma a Mailina e Mailina è un paesino sperso in mezzo alle campagne desolate nella provincia intorno. Io stavo allattando e ho dimenticato di chiudermi la serpa, scusate, che forse andrà nemmeno Malino, ma era ancora una cosa più lontana di Malino, non ricordo nemmeno più dove fosse. Io sono dovuta andare lì, per avere il passaport ho dovuto far togliere la registrazione dal Vibna registrazione dal permesso di soggiorno, ho dovuto riregistrarmi poi con il passaport, dopo aver ottenuto il passaport che ci ho messo 2-3 settimane per ottenerlo, ho dovuto aspettare un'altra settimana per riottenerlo perché per registrarmi ho dovuto lasciarlo nell'ufficio dove dovevano registrarmi, cosa che sarebbe illegale, però comunque lo fanno tutti perché c'è un vuoto legislativo, per cui in teoria tu non potresti lasciare il tuo passaport, però loro sono costretti a prenderselo perché per motivi procedurali non riescono a registrarti immediatamente, ma il problema che è sorto è un altro problema, cioè io ho scoperto e l'ho scoperto solo in quel momento perché nonostante mi fossi letta, tutte queste cose si recuperate, tutte queste scartoffe, io non ci avevo mai pensato prima, io ho ottenuto il passport, cioè la carta di identità russa e in realtà già dopo aver fatto il giuramento non avevo diritto di lasciare la federazione russa, in quanto cittadina russa registrata come cittadina russa, io non potevo usare il mio passaporto italiano per andare in Italia, perché per lasciare il territorio russo, in quanto cittadina russa, io potevo lasciarlo soltanto con in mano un passaporto russo, passaporto non il passport che è la carta di identità, ma lo zagran passport, cioè il passaporto che si usa per lasciare il paese, però io non potevo ottenere il passaporto che si usa per lasciare il paese senza avere prima il passaporto interno, cioè la carta di identità e quindi io mi sono ritrovata in questa situazione di panico in cui io in fretta e furia cercavo di farmi fare questi documenti perché la guerra era già iniziata, io ero cittadina russa, il passaporto italiano era valido, però non avevo dei documenti che mi permettessero nel caso ne avessi l'urgente necessità di lasciare il paese. Dopo aver fatto il giuramento a metà marzo, io sono riuscita ad avere la mia carta di identità a metà aprile e sono riuscita ad ottenere il passaporto per lasciare la Russia a metà maggio, quindi tra quando ho ottenuto la cittadinanza e quando ho ottenuto un documento che mi permettesse di lasciare il paese al bisogno, sono passati diversi mesi. Poi dopo alcuni colleghi hanno cominciato a chiedermi consulenze, consigli, però la verità è che le leggi sono cambiate poi nell'arco di un anno, mentre io ho ottenuto la cittadinanza, le leggi sono cambiate. Mi risulta che al momento non sia più possibile ottenere la cittadinanza alle quali l'ho ottenuta io, infatti mi ricordo che quando uscì la possibilità per me di ottenere la cittadinanza, il permesso di soggiorno e la cittadinanza, uno dei motivi per cui mi affrettai a fare tutto e ci ho messo un anno e mezzo, però in realtà io inizialmente volevo metterci meno di un anno per fare tutto questo, la mia idea era fallo prima che cambino idea e in effetti se ci si pensa bene, se si va a vedere, prima dell'inizio della guerra la Russia ha dato la cittadinanza a un mare di persone, insomma è così che io sono diventata cittadina russa col sudore della fronte. Spero di averti raccontato qualcosa di interessante, se non l'hai ancora fatto, mia figlia ha ricominciato a terremotare questo video, se non l'hai ancora fatto iscriviti a questo canale, accendi le notifiche per non perderti i miei prossimi contenuti e in particolare i prossimi contenuti di questa rubrica russoliana in cui ti racconto la mia vita quotidiana in Russia. Ciao!